Oh! Ma chi è che fa cascare il cavalletto? Ma io non lo so! Ma chi è? Scusa, ero io! Dovete sapere che lei si compra la crema pandistelle e la nasconde al fratello, così Lele non lo sa! Ok, non lo dite a nessuno, eh? Soprattutto non lo dite a lei! Niente, Lele! Dove sta? Dove è andata? Vieni qua! Eh, cosa c'è? Leggi questa parola! Frigo! Ciao ragazzi, buongiorno! Qui ci sta una cartellina, un bel, un bel, vedete che carino ce l'ha messo in una, proprio in un piccolo faldone, Martina e Alessia che ci scrivono, Barbara puoi aprire questo pacco? È con Lara? Certo! Lara è qui con noi e possibilmente potete aprire solo questa cartellina in un video, vediamo quanto dura, vediamo quanto ci mettiamo, se dura tanto apriamo solo questa. Allora, contenuti, un fumetto, la lettera, un pisla, la pagina degli hashtag, un contenuto a sorpresa! Wow! Potete aprire questa lettera con un pacco di un unico video! Ecco il pisla! Uh, che bello! Mamma mia, è bellissimo, Babu! Quanto è bello! Fantastico! Bello pure il colore! Splendido! Poi, vediamo un po' qui, ah, guarda c'è pure per Lara, c'è la L e qui c'è la letterina. Ciao Lara, ciao Barbara, siamo Martina e Alessia e siamo sorelle. Io Martina ho quasi 11 anni, li compierò il 5 giugno, Alessia è la 9, noi siamo di Benevento e frequentiamo la quarta e la quinta elementare, vi seguiamo da molto tempo. Questo vi fa capire, vi fa capire ragazzi, che gli eventi arrivano tipitini, veramente anche da lontanissimo, cioè loro sono arrivati da Benevento, ma ce n'erano da Foggia, c'erano dalle Marche, sono venuti da Milano, quindi ogni volta i vostri genitori veramente fanno delle cose incredibili per portarvi ai nostri eventi e noi li ringraziamo perché si fanno strada, viaggi, weekend, di tutto, per portarvi, quindi insomma dovete essere contenti perché siete fortunati. Vi seguiamo da molto tempo, all'inizio quando Alessia mi aveva parlato di questo canale io ero un po' scettica, ma poi quando ho iniziato a vedere i vostri video mi sono piaciuti subito, un mondo. Babbo, tp team, siete fantastiche, ci piacciono tantissimo i vostri video perché ci fanno ridere a crepapelle, ecco io questa cosa è quella che più mi manca perché voi mi raccontate un sacco di cose, ma io quanto darei per vedere le vostre reazioni ai nostri video in cui ridete come Matteo, mi piacerebbe troppo questa cosa. Che per l'altro mi piace tantissimo perché a volte io leggo commenti in cui dicono grazie alle vostre storie dimentico tutti i problemi che ho avuto durante la giornata. Siete dolci, siete simpaticissimi, siete oneste. Poi la prossima è di io. Sì, vai. Cinque, ci volete molto bene, tanto da averci dedicato un canale con le nostre lettere. Sì, ma guarda ragazzi, io sono veramente orgogliosa di questo canale, ma non tanto per il discorso lettere, ma perché comunque sia siamo arrivati a oltre 13.000 iscritti in pochissimo tempo ed è incredibile pensando che questo non sia un canale che fa cose di tendenza, tag, challenge e compagnia bella. Facciamo ogni tanto qualche piccola apertura e le vostre letterine, quindi è merito vostro. Io semplicemente le apro. Certo, ci vuole una varia di impegno perché comunque sia le letterine occupano spazio, tempo, le devo aprire. Voi vedete 5 minuti, 10 minuti, ma non potete immaginare che lavoro c'è dietro le letterine. Però vedo quanto ci tenete e immagino, boh, io quando ero piccolina c'era Bim Bum Bam, che era una trasmissione che anche i vostri genitori ricorderanno sicuramente. Voi andate glielo a chiedere, mamma ti ricordi Bim Bum Bam? Ti ricordi One? Vi diranno sì. E leggevano letterine, ma le leggevano tipo una o due al giorno e io gli avrò scritto penso 10 volte e la mia non l'hanno mai letta. Quindi è lì, però erano talmente, ne arrivavano tante e avevano poco spazio per leggerle. Quindi capisco che se l'avessero letta la mia sarei stata non felice di più e quindi capisco quanto ci tenete voi. Non è che forse l'hanno letta, però è tipo un giorno che ti vuoi avere la febbre. Ma lo vedevo sempre perché Lara non c'era niente. Noi non è che avevamo la tv on demand oppure avevamo i video e voi vedete i video quando volete voi. Mentre noi avevamo quel pezzettino, cioè dalle 4 alle 5, c'erano quei due cartoni, poi ce n'era uno la sera alle 8, dalle 8 alle 8 e mezzo. C'era un cartone e poi la mattina forse uno, ma se no non c'era niente. Però vabbè, c'era la fantasia. Ci piacciono molto le LOL, abbiamo 12 LOL, 7 pezzi, 34 LOL. In tutto 53. Hai già fatto il conto? Sì. Ma appa! Ma per indietro, cioè... Oh, mia figlia sa contare. Che emozione. Piccola parentesi. Vi ricordate quando il 2018 a Zomarina hanno fatto l'evento dei miei conti delle Sabine Jack Nobile? Perché il giorno dopo abbiamo visto il video in cui dicevate che c'eravate andate e che avevate incontrato molti del tibi team. C'eravamo anche noi, ma purtroppo non ci siamo riusciti a vedere. Per questo ci siamo rimaste mortificate per tre giorni dopo l'evento. Guarda ragazzi, quella volta veramente c'era il mondo. Noi siamo andati due volte agli eventi dei miei contro te e in uno c'erano le foto. Sette luglio. Quello del sette luglio veramente abbiamo incontrato un miliardo di tipitini, perché c'era la fila, quindi eravamo in fila. E poi tipo, c'erano persone che tipo, da lontano c'era una bambina che mi ricordo che ha strillato, Barbara Lara! Ci ha indicato e ha scavalcato la fila. È vero, è vero. Invece a questo qui con la Sabine Jack Nobile, è bello perché noi eravamo, anche lì eravamo in fila, ogni tanto arrivava qualcuno e quindi ho fatto un po' di selfie. Però sì, non è che ci si incontra sempre. Calcola che anche a noi è successo, perché al Romics, questo ultimo che c'è stato, niente, oggi chiacchio, ragazzi, scusatemi, c'era Eleonora Olivieri e io l'ho scoperto la sera, quindi ho fatto Lara, c'era Eleonora Olivieri, lei no, non l'abbiamo vista. Io ho strillato, quanto ero arrabbiata. E quindi succede, insomma, però capiterà l'occasione, magari ti porta a un suo evento e la vedrai, dai. Se non sbaglio, c'è a Torino Comics, però a Torino. Le occasioni tornano, ragazzi. Allora, e poi qui c'è scritto, comunque per fortuna vi abbiamo incontrato al Romics, visto che le occasioni tornano. E di questo siamo molto felici. Vi vogliamo un mondo di bene con affetto Martina Alessia, scritta il 28 marzo, quindi con un po' di preavviso. Con Ilaria Tutorial abbiamo realizzato anche noi il collegio LOL. E guarda, quel tutorial mi ha dato tante soddisfazioni, perché ho visto veramente una marea di vostri foto, di vostri vestitini e li avete fatti benissimo. Follow your dreams, che bello. Segui tuoi sogni. Questo lo dovessi incorniciare e farci un quadretto, perché è veramente bellissimo. Sia il disegno, sia il messaggio. Sai che vuol dire? Segui tuoi sogni. Brava, Gitta. Perché follow e segui your, your e tuoi, dreams, sogni. Perché dream sarebbe sogno, però con la S sono... Cioè, ragazzi, questa ragazza conta e sa l'inglese. Non lo so, questa ragazza, che soddisfazione. Perché si parla in matematica, inglese, italiano, storia, geografia, scienze. C'è una U, c'è un pisla U. Che carino questo con le pisla a righette, guarda che belle. Vero, perché tipo dà la sensazione che... Ma chi è che fa cascare il cavalletto? Ma io non lo so. Ma chi è? Scusa, ero io. Ecco, ti pare, se c'è un po' di macello arrivi tu. È perché ho visto questa cosa bellissima qui dentro. Non ti piace? Eh, certo, questa è la tua lettera preferita. Dici? Eh, sì, è una U. Ah, non ce l'avevo mica fatto caso. E quindi, scusami, perché ti piaceva? Boh, perché è azzurra. Alice. Allora, la pagina degli hashtag BabuHitla, la tutorial premolino, foffoloso, gambetta felice, U, 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 Amazon. Poi c'è questa che la legge. Dove sta? Dove è andata? Vieni qua. Eh, cosa c'è? Leggi questa parola. Frigo! Sa che è alla tosse. Sa che è alla tosse. Sì, perché ormai sai che è la posta di Babu prevedo la luna nera. Niente scotch. E vi vogliamo un mondo di bene. Che spettacolo. E poi qui c'è un sabato speciale di Lara e Barbara. Cioè in cui io dormo, no? Un fumetto, no? Che spettacolo! Ah, che bello. Io vi adoro troppo quando ci fa dei fumetti, mi piace da morire. Allora, perché ve l'ho detto, ve lo dirò. Questo è un libro. Ve lo dirò. Oddio! Oddio! Che carino! Oddio! Guardate che bello. Oddio! Oddio, la febbre. Ecco, è svenuta. Con la febbre. Per Lara, infatti. Chiamate un dottore. Chiamate un dottore. L'unicorno che fa la dub. Allora, io questo ve lo dico e ve lo ripeterò per sempre. Perché io facevo questo da bambina. Io mi facevo, visto che appunto i cartoni animati non c'erano e quindi c'avevo un cartone al giorno, e io nel tempo restante mi facevo i fumetti. Allora, poi c'è... Ah! Buongiorno, Lara! Ah, ti sei alzata tu. Ah, ti sei alzata. C'è il letto a castello, giusto? Perché sopra c'è l'Ella e sotto c'è Lara. Buongiorno, Lara! Ok, di sicuro sceglierò questo. Si mette una maglietta. E io che le dico, Lara, vestiti. Sono pronta. Larina viene a fare colazione. Corro, ho fame. Nel effetti, Lara, a colazione ha fame. Basta. Poi è finita la giornata per lei. Pane più Nutella uguale colazione perfetta, giusto? Sì. Oppure anche un'altra cosa si compra, Lara. Dovete sapere che lei si compra la crema pan di stelle e la nasconde al fratello, così Lele non lo sa. Ok, non lo dite a nessuno, soprattutto non lo dite a lei. Niente, Lele! Ok. A posto. Meno male. E poi mangia il panino e fa, che buono! Poi si va a lavare i denti. Come sento? Non c'è nessun topolagno nel batter, vedete che è andato bene. E poi fa, mi annoio. Mamma, possiamo registrare un video? Ecco, esattamente così che va la mia vita. Il canale è cominciato così, perché Lara mi diceva, mamma, facciamo un video. E aveva ragione. E poi, che posso fare? Ah no, io le dico, no, oggi no. E lei, che posso fare? Andiamo a fare una passeggiata. Ok. Usciamo. Guarda che bello, guarda come l'ha fatto. C'è la porta e poi fuori il mondo. Spettacolo. Qui siamo noi, che andiamo nel verde. Guarda, mamma, c'è una luce. E che sarà? Già, un bottone d'oro. Che strano. Dai, premilo. E parte dal copolino. Mamma mia, che meraviglia. È geniale sta cosa. E poi c'è un copolino. E noi ci andiamo sopra. C'è un'altra pagina. Mamma mia, che bello. Poi ci siamo noi. Poi ci sono dei pietali che arrivano. Ma questo fiore è il nostro simbolo. Conserviamo un petalo? Ok, usalo come porta fortuna. Un attimo. Lara, viene a cena? Lara si sta cambiando. Oggi è stata una strana, ma bella giornata. Infatti, incredibile. Poi Lara va a dormire. E così terminò la giornata inaspettata. Quella che potrebbe essere un sabato di Lara e Barbara. The end. Disegnato da Martina. Colorato al 70% da Alessia. E al 30% da Martina. Cioè, addirittura, vedi pure quanto hanno colorato. È fantastico. Veramente è una delle cose più belle che abbiamo mai ricevuto. Veramente è stata una letterina tutta bella. Tutta fatta con amore. Si vede, ragazzi, è bella. L'ho apprezzata veramente tanto. Quindi, ragazzi, avete chiesto un video tutto per voi. Ed eccolo qua. Questo video avrà soltanto la vostra letterina, perché è bello così. E la vostra storia. E sono sicura che lo vedranno in tantissimi, perché veramente vale la pena. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Grazie per aver ascoltato le mie chiacchiere. E niente, ci vediamo sempre da queste parti. Voi rimanete con noi. Raccontatelo ai vostri amici. Condividete i nostri video. Mandateli su WhatsApp ai vostri amici. Condivideteli su Facebook. Insomma, siamo qui per voi. Qua vi metto i bollini dei nostri canali. E qua qualcosa di carino. Da vedere dopo. E buona giornata, ragazzi. Divertitevi, fate qualcosa di bello. Mi raccomando, ogni giorno cercate di fare qualcosa di bello. Ciao! Ciao!